Buongiorno a tutti, grazie ad esso all'appuntamento di una Vabriguccia. E che appuntamento oggi? Abbiamo da Bala, con i idoli che ci aspettano in della tele di Bedro e di Vanu. Prometete esso una stonda allegra che noi esperteremo da canto, teatro e arteblastiche. Stadevo noi, andiamo a trovare. Vabbè, ma che scombattere qui? Ci scaliamo in musica. Ahiè? E che faccio? Eh beh, faccio con noi. Posso? Musica. Musica. Ah, se puse. Che piante. Ozi, Dine. Ma, se mo' proprio ne ha dimarro, dica di un movimento. Allora, che consigna vemmo? Eh beh, a mascovri a consigna. Aller, ozi, Dine. Adio, Filippo, lei dia bastanta a vota, eh? Reagisce a una musica tematica. Reagisce a una musica tematica. E che volevi? Eh beh, infatti, ce l'ha adatta sia a musica e creare un'ambienza e creare una scenetta. Da, adunire, per presentare questi idoli, l'hanno ha presentato in musica. Allora, allargatevi la pena. Mettetevi in piazza, come avanza da pena, avanza da pena. Come ero artisti, sei mao teatro. Sei mao teatro, gircolo, eh? Andemo. Siete pronti? Ladies and gentlemen, Falato direttamente da Ubaesi l'Orso, un nostro comediante, Dume Carlo. E l'ha ed è riconisciuta con il suo talento, con la sovinezza di a nostra garallugia. O principe di Agumeria, o prossimo presidente dell'Assemblea di Corsica, ha già parlato di Filippo. O di Dè, un paremanco era, abri delotti, stupadevi la retta, di E.L. l'avete riconisciuta, di Etiaralina. E per compie, a nostra regina di Ava Briguccia, Francina Marciano. Buona! Allora, allora, che mi dò che fa? E beh, ma a trawaiare un po' non sta sta di madica, non sta in musica. Allora, non sta in vostri roli, io bai io da lasciare trawaiare insieme, adiamo trova a fanù, che mi aspettano bene a musica, e mi dì, che direi trawaiare vostro trawaiare. Adoro, adoro. La, 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 la. Chi pilege sa va Briguccia? E poi, ci chiedi sempre le canzone magnifica, è un te so canta d'acqua là e ha il ramo di balla. E non hai mica candese e barule? No, ma, e poi, suzante e mica? Allora, oggi è, ci vienmo un ribilio, eh? Ah. Quando tu parli, voglio prendere l'età, tutto ognuno usa lì e si mette a ballare. Ecco qui ti dà a ramadio alla, o tiè. Allora? Allora, che fai? Magnifica canzone che si chiama Pondetto Bali, allora la fatta Feli e Dio anterramo rocchi, scrittore e conosciuto da tutti. E poi una collaborazione tremanda, perché questa canzone è magnifica, è successo di un'estate di Barretti. Eh beh, tanto che anterramo dopo, pareti successi di Dio anterramo e di Veli. Eh, ne conosciamo, eh? Eh, ne conosciamo Barretti. Beh, di no. Eh, beh, mi presenti queste idee? Eh, allora, abbiamo qui due magnifica sorelle, che si chiamano Serena e Leandro. Infatti, magnifica sorelle. Dopo abbiamo un nostro amico Isampe, Leandro. Leandro, che canta, che canta sempre con noi. E infine, è nostra amica Newlinka, biondinetta, magnifica, che si chiama Marino. Marino, che canta sempre con noi, di Lu. Hai un bello gruppo oggi. Sì, tu hai da gamba? Sì, tu hai detto, come hai? Hai detto che fa? Sì, hai detto che trawaia? Allora, io vado da lascia trawaia questa magnifica canzone. Bultuobu? Sì. Qui è? Qui è? Qui è? Qui è? Ciao! Ciao, Siderucci! Ciao, Siderucci! Ciao! Chi è il piacere dirige, un matello di Avabra Guccia. Oggi abbiamo lavorato per un lavoro bellissimo, colorido, un'opera che viene il movimento perché oggi Avabra Guccia si vuole un omaggio a voi. Questa è un'opera di un'opera di un'artista americano che si chiama The Dancer, che si chiama The Dancer, che si chiama The Ballerine. Questa è una generazione di un'artista americano che si chiama la creazione. Il nostro canale è una donna con le mie. L'artista è un canale che si chiama il nostro canale. Allora, quindi la voglia di un'artista americano che si chiama la creazione del libro con il muro. Prima si mette il bavimento, avete una carta verde che vedete per fare il nostro bavimento, come vi diceva, allora avete ballare, forse, non ta fronte, non ta scogli, non ta una strada, poi diccelle, non ta cose e ostri, ballerini hanno davvero là. Allora, lavorate in due, non ta ogni voglio, cominciate per disegnare, per pensare il nostro bavimento, e ci ne sarà uno, qui o da l'era. C'è da buona? Allora, prima di gomen ciao, si deli, vada presenta, quina idea? Travalliamo dunque odiego, Ange-Marie, François-Marie, con Jean-Pierre, e con Faustina. C'è da buona travalla? Allora, guardate. Per esempio, per esempio, per esempio, Montigelli. E vostri Valerini, per esempio, non ta Montigelli, non? Allora, quale è che continuano da taglia? Jean-Pierre o Faustina? Allora, io non ho domicolato, non ho domicolato, non ho domicolato, non ho domicolato, non ho domicolato. Allora, io non ho domicolato, non ho domicolato, non ho domicolato. Musica. Ripetite, choco l'Igua. Adiabeur. Adiabeur. Adiantezurimore. Adiantezurimore. Aobrimo piano. Aobrimo piano. Oh, 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 oh. Musica. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Choco ego. Choco ego. Batello. 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 Musica. Ma. Cavalcata. Adiantezurimore. 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 Ora mettiamo un borghi di capelli, così siamo proprio indodemma di uasterno, ecco, vieni da pena gusti, vieni da pena gusti, vieni da pena gusti, d'accord, qui siamo indod deserto e qui amiamo ero, musica, si pronto, Filippo? Giòn, io ciao Mi doce a fare molto in ты,ilate Hai sempre in cabo a James West a i zampri in kabo jess west jem sagoza bravo jem s punante e la di zampri in kabo e la di avapaga bravissimi positi voi si d'incida a us alun tutti tutti jem svest e tutti a zomoi va bene allora musica james james un tiva mica dumba perché jè un tiva mica dumba perché jè marie marie i love you i love you e tu mba un mi varaggio mica dumba e tu mba un mi varaggio mica dumba yes io più forte asò yes io più forte asò ma fa caso ma fa caso un tine va un tine va che so immortale che so immortale musica un tine va un tine va un tine va un tine va sorti ma da un tine va così avanza papa top come un tine va 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 tutti i alleri di l'obere di che sarri e a un tine va di rimette si alleri in un tine va un tine va come un tine va prima di mette a go la rive le ti da pen la ben sad a o str o tine va allez and da dos ide allez Jean-Pierre kipili du kube ballerine pwede fade gume bo ulede pensade ghi ewe devato o strub balli mento ki i bwede mette nanto o zobra ne bwede mette bareti pwede rie un piet dout o strub volio di garta di ben di u moviment bb ad aboya bala quale ki bala gui anjmarit tu bali non nai mai tibia gemmica et tu faustina tibia jabalate ye ki bali muer nu apena di dango li bwede miko dango a faustina alo continue ale continue ale mette dene barret tiens an kose le ziom ikan ne nant au bar iment u bono e sen lari pon us altah so balerini u bine escur dade mette de lundi lho wwa poe degubincha abeta ostragola se bo ulede mette de mette de bourro wwa garda ed e certi zom es nom u kim po noes e genanta u u babi mento kume kwe si madastre bon noes sen lari ya dastre bar gali lisa tessi no e mette de anko on e mette demy k dro pw Mi chiamo un po' inizia per il vidrio? Ragazzi. Non. Non, non. Non, non. Vai, non la città, c'è ancora... ...e che grazie mille, c'è la sentita? Adesso ti dimentica fa, spie. Riuscire a scambiare. Lo Sede, ci siamo arrivati a un prossimo, va? È? Allora io gotto e wraz e poi dopo è gantagevo. Facciamo così. Lasciata ganta amaro e tristezza, amaro e tristezza. A voi. Lasciata ganta amaro e tristezza, amaro e tristezza. Allora, amaro e tristezza, ripetite. Amaro e tristezza. Lasciata ganta amaro e tristezza, a voi. Lasciata ganta amaro e tristezza, amaro e tristezza. Torniamo gli stessi a fare. Lascia da ganta amare la tristezza, amare la tristezza. Pena balla più a gustare la festa, più a gustare la festa. Agiviamo usano? Lascia da ganta amare la tristezza, amare la tristezza. Pena balla più a gustare la festa, più a gustare la festa. Grazie a tutti, ma è un po' di più, 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 ma è un po' di più. Grazie a tutti. 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 che stasera so disurtida al famoso teatro San Carlo. Qui, per esempio, va dire che ha messo il gabo, può di nuovo lanche. Quindi sono importanti queste piccole strigenere. Continuare a completare l'Ostrober, l'Ange-Marie ha cominciato. Qui va dire che ti piace? Azzò? Azzò mani, eh? E tu, che ti piace? Faustina? E gambe. E tu, Jean-Pierre, che ti piace? Ibede. Ibede, eh? Importante per rombare l'Irino, Ibede, eh? François-Marie, tu che fai? Si sempre non ti piace? Si. E così, l'Ostrober è compito, io volevo valore a nostri delle spedadori, guardate qui sono un magnifico drago, che è la nuvata, Jean-Pierre e Faustina, dunque avete rispettato la gonsigna, dunque, tu li ava un movimento gui Valerini, e falle un pavimento, boi aveva un pavimento originale, e si vedano estri chenere, che c'è un movimento, ballen, esperemo gui, ancora, imitare dauale. Allora, qui va dire? Quello di, Jean-Pierre e Faustina, ma, emmo dava berre un colastro. Quello di, François-Marie, e di, Ange-Marie, fa devere, guardate così bello. Allora, siete contenti o amica, siete soddisfatti di vostro dragoio? Iè! Vi piace, vi buore di portare a casa, o da dieremo due. D'accordo? Buona, sono stata contenta di ricerciare, e vendeci a te lo. Siete veramente artisti, e, a ora è ora permetando da fama pena di gommeia, con Pedro, che mi aspetta la te lo. L'aspetta di che? Di teatro. Di teatro. Di teatro. Bebe, di te, grazie, abedici. Abedici. Ma che si passa in desto saludo? Fede a burro. Tu i'gao a lir, che di un denunci da, e c'è un due. Siete pronto. Attenti. James! 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 Ma i brumesso! Ma i brumesso! E avassi che baullo! E avassi che baullo! Immortale un corno! Immortale un corno! È morto! James! È morto! 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 Immortale? Immortale, siamo tutti! Ci siamo un po' di come tutti oggi, ci era veramente bene, bene come gente, come sempre. Allora, a me mi do canta trovo a Fanucchi, ma spette per canta, ma rigomando continuare così. Allora, ci sono tutti. Allora, andiamo. Cantate. Uno, due, tre, lascia da canta, malore e tristeza, malore e tristeza. E contami con lui. Allora, il conto è un'espeda, è un'espeda, è un'espeda. La sciata d'onta, ma allora è tristezza, ma allora è tristezza. Per una bala via a busta la festa, via a busta la festa. Allora, il ribito. Quando tu pari, poi tu preme l'età, tu donio rosa lì, se si metta a bala. Tu donio rosa lì, se si metta a bala. Quando tu pari, poi tu preme l'età, tu donio rosa lì, se si metta a bala. Vagia stra pagatene, metti buone bene. Bedi, fiamo come la canzone, carissiamo e balliamo. Fade a vista, qui piége l'éposa d'Odidi? Allora, continuiamo appena scoprire questa canzone? Allora, quando abbiamo parlato di i sucessi di Dio anteramo e di Veni, chi conosce come canzone tu? Non conosco, Barrette. Ah, sì, questa è magnifica, conosce non puoi, Abolini e Biù? Un po'. Accontemola. Abolini e Biù. Fammi senti la coda. Abolini e Biù. Abolini e Biù, l'amore e la fede, amore e passione, piore di Dio e tu. Abolini e Biù. E' un po' di più, non conosce qui, l'altro ne conosce qui. A senti a saì e a radio. A radio, e in casa a senti di un. Non, non a senti mica, solo a radio. Deja bene. E' un po' di più. E' un po' di più. Ma che è un amico che è una canzone di Veli? Allora, un amico che è una canzone di Veli, ma di un fucce su di Dio anteramo. Chi li può mu raccontare? La radio di Giri Dondo. Ah, conosci, che è di a collaborazione di Dio anteramo e di Veli, in un disco di Girasoli? Girasoli. Adi cantate? E' un po' di più di Giri Dondo, è così triste nel mezzo del mondo. E poi, chi c'era d'orna? No, c'è anche una canzone che mi piace assai. So di qui e so d'altro ad amico. C'è anche un po' di più di Giri Dondo. C'è anche un po' di più di Giri Dondo. E poi continuiamo a cantare. C'è anche un po' di Giri Dondo. E' un po' di più di Giri Dondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.